Ma al tempo che in particolare ieri in tarda serata ha interessato l'Abruzzo ma soprattutto la costa teramana con pioggia e a quote alte anche neve. Sono stati oltre 30 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Teramo. Il nubifragio violento ha interessato soprattutto la costa, l'intero territorio provinciale di Teramo ma soprattutto la costa. Qui vediamo il sottopasso di Bellante allagato ed altre situazioni critiche. Alcuni comuni della Vibrata oltre a Teramo e Bellante sono stati messi in difficoltà. Le squadre del distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono intervenute nelle zone di competenza per effettuare prosciugamenti di scantinati e rimuovere alberi caduti su strade pubbliche. Il personale del comando di Teramo è intervenuto a Bellante stazione appunto a causa dell'allagamento della zona del centro commerciale e del sottopasso di Molino San Nicola dove era rimasta anche bloccata un'auto con una donna a bordo. Soccorsa è portata in zona asciutta da un agente di polizia che è giunto sul posto poco prima. I vigili del fuoco hanno provveduto poi a recuperare il veicolo spostandolo fuori dal tratto di strada allagato. C'è anche neve nelle quote più alte e ci sono state anche alcune interruzioni stradali per questa ondata improvvisa se non nella previsione almeno nella sua violenza di maltempo.